Sì, buonasera, ci troviamo proprio a Stromboli. Guardate, questa è la spiaggia nera più famosa delle isole eolie. E poi in alto vediamo i fianchi del vulcano che hanno ripreso a fumare perché i focolai stanno riprendendo vigore a causa di questo vento maestrale che ispira qui a Stromboli. La temperatura percepita è di 34 gradi ma abbiamo l'84% di umidità. Fa davvero tanto caldo. Ieri qui si sono vissuti momenti veramente drammatici, se vogliamo, soprattutto dall'altro lato, dall'altro fianco del vulcano, ovvero a Ginostra, io parlerei di questo con un'istituzione di Stromboli, la guida per eccellenza, si chiama Zazzà, da una vita segue tutti i turisti che arrivano su quest'isola, insegna loro ad amare quest'isola. Certo, ma infatti siamo qua per questo. Quello che è successo ieri ci deve fare imparare anche a noi un po' di cose, diciamo. Che cosa ci deve insegnare quello che è successo ieri? Prima di tutto che il vulcano è imprevedibile e che quelle cose lì che è inutile che noi vogliamo dire, quelle cose purtroppo Stromboli non è imprevedibile. Forse ci arriveremo tra un po' di anni con tutti gli studi, ma fino adesso no. Però la gente, tu, hai insegnato sempre a tanti turisti, non bisogna avere paura del vulcano. Tu che hai saputo interpretare anche quei respiri un po' ostici del vulcano come quello di ieri. Come l'hai vissuta tu ieri? Che ci siamo cagati addosso. Non si può dire. No, noi ci siamo smessi di paura, nel senso che non è che facciamo tutti i giorni un'esplosione del genere. È successo 10 anni fa, 20 anni fa, però non tutti i giorni. Perciò quando arrivi è poi sempre diversa, non è sempre uguale. Questa qui è stata bella, pesante, che a Stromboli non l'abbiamo... Sì, lui, allora, io vi volevo dire, da studio, che lui conosceva anche Massimo Inbesi. Sì, certo, certo, dimmi. No, volevo chiedere, insomma, hanno avuto paura, suppongo i turisti sono andati via per questo, ovviamente, no? Ma è ovvio, soprattutto quei turisti che si trovavano a Ginostra. A Ginostra è una frazione molto piccola di Stromboli. Lì i turisti si sono visti piovere addosso, piovere, una pioggia di pomici incandescente. Puoi spiegarlo? Delle pomici che si chiama il biondo nel gergo vulcanologico, ma quelli là sono delle bombe che si raffreddano velocemente fuori, ma dentro rimane calda con della lava. Perciò quando arriva a terra fa gli incendi subito. Tant'è vero che Massimo Inbesi, il 35enne escursionista, sì? No, scusami se ti interrompo, ma siccome lui stava dicendo che conosceva l'escursionista, magari ci può raccontare qualcosa? Perché, insomma, la famiglia... Bisogna dare un abbraccio alla famiglia per quello che è successo, ma soprattutto vogliamo sapere qualcosa di questo uomo. Bisogna dare un abbraccio a questa famiglia che ha saputo della notizia, soltanto perché c'è stato un tantam su Facebook e hanno avuto questa terribile notizia. Puoi chiedere qualche informazione in più? Certo che lo conosceva. Grazie. Chi era Massimo? Era un amico, infatti salutiamo con noianza alla famiglia, ma era come un amico, ormai lo portavamo da anni, o se ne andava da solo, cioè, era come uno di noi, veniva a stromboli, gli davamo il caso, cioè, ok? Era a 100 metri, non era su in cima. Spieghiamo perché è morto, un attimo, spieghiamo perché è morto. Ma spieghiamo, pensiamo di dare un'informazione che è nata, tutta l'esplosione ha preso più ginostra, quel posto lì è arrivato un po' di gas, sicuramente. È morto per asfissia, va bene, noi per il momento chiudiamo qua, ci vediamo più tardi.